per gli amici uniti per forza imparatore prima è la guada di via del castello con dei castelli ci siamo Giuseppe Sole per il gruppo fantastico facendo le scelte con casa al piano e pensate che quando ho prestato un video ti volo spesso e poi non mi dice che i stessi per arrivarsi e poi ci dà una casa ma ci sostiene questo palazzo la ragionata nella sua presentazione noi stiamo a operare facendo le libertà perché c'è che il giorno non lo fa questi qua che hanno lavorato per presentare stasera senza allargarsi alle persone più vicine e questo secondo me è un segno molto importante e ci tengo a precisare che il nostro intento è un spirito di collaborazione detto questo senza potermi ultimamente provare vi volevo invitare tutti domani pomeriggio alle 16 con partente febbraio alle 9 e mezza pomeriggio via i 6 la cappola quindi nei pressi del consorzio ci saranno 11 cari non lo capisco vabbè ho detto questo penso che anche loro vogliono fare un giorno passo la parola a Santino solo per un solo traquarto quello di divertirci insieme speriamo che questo spirito riusciamo a a a a a a